Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi videone, vi porto infatti il recap delle qualifiche che ci sono state settimana scorsa che sono riuscito a concludere su Xbox al 33esimo posto, sono davvero molto molto contento di come ho giocato di fatti sono uscito solo contro due avversari di assoluto livello e tra l'altro dopo partite molto tirate che andremo a vedere penso di non aver mai giocato così bene, veramente è un livello di gameplay altissimo, avrei meritato probabilmente di finire più in alto ma sappiamo che a questo livello le partite sono decise da episodi, porto a casa 180 pro points che mi fanno fare un bel salto nel ranking europeo ancora non so di quanto visto che la classifica non è stata ancora aggiornata, senza perderci ulteriormente in chiacchiere direi che possiamo passare a gustarci l'analisi dei game, primo round di winner bracket vinto con vittoria a tavolino secondo round che giochiamo contro Xbeads, un pro player inglese, abbastanza bravo ovviamente anche lui per essere arrivato a questo livello, quindi mi aspettavo sicuramente una bellissima serie, vi ricordo che ogni round è composto da un match d'andata è un match di ritorno e il tabellone è formato da una winner bracket e una loser bracket, quindi è concessa una sola sconfitta per rimanere in gioco. Ovviamente vi porto solo le azioni salienti, altrimenti il video veniva lungo 6 ore vedete qui come con Renato Cerco Rashford mi vedrete giocare in maniera molto molto ragionata raga perché in questi tornei ogni possesso conta, qui faccio un grandissimo collo con Bappé dopo il doppio passo non tiro per evitare l'autoblocco, porto palla sul sinistro sorprendendolo e insacco la rete del vantaggio con Bappé record breaker, quindi fillavo un po' di più il sinistro qui ancora una volta palla al limite dell'area, mi giro alla grande col doppio passo con Neymar con due tocchi vado a scaricare in rete. Il 2-0 dopo 10 minuti dal gol del vantaggio, qui intorno al 77, prima occasione offensiva da parte sua sbaglio il contrasto, non mi aspettavo questo movimento, avrei dovuto temporeggiare e prendo la rete del 2-1 qui quindi primo match che si conclude con questo risultato, iniziamo il ritorno, qui gran palla verso Neymar con una gran freddezza, porto palla dal sinistro al destro per incrociare a giro e colpire il portiere sul pallo lungo quindi 1-0 ma 3-1 nel totale, qui faccio scattare in Bappé con l'L1, sfrutto la sua immobilità con un filtrante e di prima finalizzo con questo pallonettino che mi consente di andare sul 4-1 sfruttando poi il suo pressing, visto che voleva recuperare il game, gioco di rimessa, vedete qui che gran contropiede che faccio da Rashford, da Ronaldo, qui tocco in più che non dovevo fare, sono fortunato nel rimpallo, scarico ancora verso Neymar a incrociare, rete del 5-1 che mi porta a casa la vittoria, visto che il mio avversario decide di quittare quindi secondo round vinto per 5-1 in aggregate terzo round di winner bracket che andiamo a giocare contro Fiftalo Wars, un ragazzo italiano molto bravo che era, se non erro, intorno alla novantesima posizione nel ranking che già conoscevo in quanto era un mio ex compagno ai tempi dell'Empoli Esport quindi mi aspettavo anche qui un bel game game che riesco a portare subito dalla mia parte qui guardate bellissimo ancora il fake doppio passo che invece di concludersi con un tiro vado a aggiustare la palla sul mancino e scaricare in rete la conclusione che mi porta in vantaggio qui vedete ancora una volta come gestisco palla sempre dall'alto per entrare in aria ancora una volta porto palla sul sinistro di Ronaldo che da lì comunque non sbaglia e in sacco la rete del 2-0, questo risponde anche alla domanda Ronaldo e Ife è meglio del base, sì perché col sinistro vedete come finalizza bene qui ottimo l'1-2 tra Ronaldo e Renatino Sanchez filtrantino che mi permette di siglare la rete del 4-0 e primo match che si conclude così secondo match ragazzi che ha un avvio shock e vedrete perché, perché prendo il gol dell'1-0 dopo 10 minuti qui ancora una volta vado a vuoto con Varane invece di intemporeggiare e subisco la rete del 2-0 un attimino disorientato dico a me se sto ok Matteo calma, calma se sopra 2-0 insomma, visto che in aggregate ero 4-2 non roviniamo questo match perché sarebbe importante vincerlo però passano pochi minuti arriviamo al 31esimo, ancora una volta lui in possesso palla faccio un contrasto che non esiste Neymar arriva a calciare Areola ovviamente ci mette una pezza Mendy decide che era il momento di fare una rovesciata panoramica recupera il pallone, palla dentro verso Neymar vince il rimpallo, rete del 3-0 e qui inizio a sentire un attimino di strizza secondo tempo, fortunatamente cerco e trovo benissimo Mbappé con questo filtrantino, ottimo il numero palla sul destro, 5-3 torniamo un attimo a respirare sul doppio vantaggio vedevo un po' allontanarsi quelli che erano i mostri in tal senso ma questa non sarà l'unica partita al cardiopalma ricca di ribaltoni qui vengo schienato e metto in atto la mia special che vi ho insegnato anche nel video tutorial quindi faccio scattare Renato e Rashford fintando il passaggio poi approfittando del fatto che io ho portato via l'uomo dal palo in sacco all'angolino la rete del 2-3 ma del 6-3 totale e così termina il terzo round di Winner Bracket quarto round che andiamo a giocare contro Arma Roken un player francese classificato 32esimo in Europa al momento di questa partita e qui mi aspettavo il match piuttosto della giornata ed è effettivamente quello che accade inizio bene perché qui con questo filtrante di Viera arriva palla Mbappé scarico di prima sul palo vicino e grazie proprio all'aiuto di questo riesco a siglare l'1-0 qui volevo spararmi con Areola rilancio male e lui mi sigla la rete dell'1-1 vi giuro questo è il suo primo tiro in porta è il suo primo tiro in porta e guardate il secondo tiro in porta arriva al 91esimo 91esimo quasi 92esimo entra in area Ronaldo fa un'animazione casuale diventa un assist ti vado sotto non premo il contrasto mi salta 92-30 prendo la rete del 2-1 col secondo tiro totale ancora una volta filtrante da parte sua nella seconda partita Ronaldo si ferma ottimo il numero aggredisce la fascia qui fa una gran giocata qua non me l'aspettavo proprio palla dentro per Felix grandissima giocata niente da dire applausi per lui quindi 3-1 per il nostro avversario in totale e 1-0 in questa partita io però ovviamente non mollo alzo un po' i giri con Bappé cerco l'avanzata palla da Viera per Rashford la rete del 3-2 quindi ritorno sotto di un gol ma purtroppo non basta quindi scendiamo in loser bracket dove ci attende Trojan un altro ragazzo inglese che non conoscevo però ho visto che anche lui era rancato bene in Europa quindi insomma mi aspettavo un match tosto a questo livello ovviamente tutti i match sono abbastanza difficili voglio dire quindi andiamoci a gustare questo questo round con lui che è in controllo palla vedete sessantesimo fino ad ora non c'erano state grosse emozioni con Zidane porta palla con Ronaldo fa il solito doppio passo qui palla dentro verso Neymar non mi chiedete dove è passato questo questo filtrante alto sto ancora cercando la palla è con Ronaldo pic tra l'altro mi scarica dentro la rete del 1-0 quindi sessantesimo trova lui il vantaggio passano 4 minuti e completa quello che è un 1-2 devastante io qui sono pigro nello switchata e gli apro un varco clamoroso e lui col filtrante va a siglale la rete del 2-0 cerco in tutti i modi di rifarmi sotto perché sarebbe fondamentale in vista della partita di ritorno e al novantesimo mi invento mi invento un bel goal Bridge con Bappé a prender campo Suola per mandare a vuoto il portiere cross e mezzo questo è veramente un gran goal più difficile di quello che sembra quindi 2-1 che mi ridà speranza in vista della partita di ritorno partita di ritorno che però comincia come era finita la prima visto che lui vince 12 rimpalli su questa azione me lo ricordo perfettamente scarica palla dentro fa questo Bridge non riesco a prendere Varane in tempo e mi segra la rete del vantaggio quindi nuovo doppio vantaggio per lui però come me li ha fatti lui sapevo di poterli fare pure io e qua faccio veramente una grande azione guardate con quanta pazienza torno dietro cerco la giocata vedo che è tutto chiuso torno nuovamente dietro mi scarico su Ronaldo palla dentro per Mbappé tiro di prima stile FIFA 19 e trovo la rete del pari però siamo comunque sotto ancora di uno nel totale ancora una volta bella abbriggiata per prendere campo messo giù Mbappé calcio di rigore non vedete il mirino perché nelle partite competitive non abbiamo il mirino ma Ronaldo spiazza Van der Sar e andiamo sul 3-3 quindi riusciamo per il momento a rientrare in partita 105esimo sfrutto questo filtrantino di Mbappé verso Ronaldo che se la porta bene avanti e poi buca d'angolo rete del 3-1 4-3 totale Cristiano ci porta ci porta davanti quando manca il secondo tempo il secondo tempo supplementare tuttavia però la gioia dura poco perché al 118esimo lui entra in area con Zidane si brigia Renato Sanchez ha un attimo di esitazione causato dal bridge rete del pari e andiamo ai rigori Cardio Palma primo rigore parato da Van der Sar poi si presenta lui sul dischetto Alessandrini contro Areola glielo paro per fortuna allora vado poi con Mbappé stavolta spiazzo Van der Sar tirandolo a metà strada parte lui con Promes e spiazza Areola quindi 1-1 parte poi il buon Patrizio spiazza ancora una volta Van der Sar che si era buttato dal lato opposto questa volta parte lui con Valverde parato quindi ci portiamo in vantaggio 2-1 Neymar è sempre un parto quando deve battere il calcio di rigore che prende stare in corsa malata aveva angolato non me l'ha angolato bene e lui riesce a pararmelo si presenta con Kilian dal dischetto spiazzato quindi 2-2 riesce a pareggiare il conto con Rashford un rigore perfetto sembrava fuori o avevo mezzo infartato quindi lui deve segnare se vogliamo andare a oltranza segna sapevo che lo tirava di là me lo ricordo ancora invece mi sono tuffato lì Ronaldo ancora una volta spiazza il buon Van der Sar si presenta il suo Ronaldo sul dischetto la tira a destra gliela paro ci portiamo a casa anche questo round quindi ripartiamo dopo la sconfitta subita contro Roken e andiamo avanti dopo il buon Trojan ci ritroviamo a affrontare un avversario ambiguo che si chiamava I love EA del tipo insomma voglio vincere queste partite in quanto sono figlio di EA e insomma un altro ragazzo inglese anche lui bravo andiamo a vedere subito il primo game vedete che giochiamo in un clima tropicale col campo che sembra sbiaditissimo ancora una volta io con le mie manovre avvolgenti cerco di liberare qualcuno all'interno dell'area di rigore guardate qua Ronaldo come si gira e come la piazza alle volte ci vuole pure un po' di ignoranza raga Ronaldo di sinistro a giro boom buca ad angolo visto che lui era molto molto abbottonato ho detto ma la proviamo e ha funzionato 79 quindi siamo ancora sull'1-0 qui Neymar cerca l'avanzata bellissimo lo scavetto ancora una volta la freddezza di portare palla sul destro e aprire il piattone per trovare la rete del 2-0 quindi primo match che termina 2-0 ancora una volta qui filtrantino alto col difensore che rimane a guardare e Ronaldo ancora una volta buca ad angolo alla perfezione per trovare la rete dell'1-0 3-0 3-0 totale trentesimo palla ancora una volta da Renato per Bappé Neymar Bappé 1-2 avvolgente palla ancora dentro per Bappé numero biciclettazza anche questo vi ho portato il tutorial raga come vedete funziona anche a livello competitivo quindi 4-0 totale sessantesimo lui si inventa sto gol a giro sotto l'incrocio clamoroso qui perdo io una palla un po' troppo alta lasciandogli là a questa azione Ariolava ha recuperato bene la palla però poi insomma io sbaglio il disimpegno quindi giusto subire questo gol dopo l'ennesimo rimpallo vinto anche con con quadrato da parte sua manca però davvero poco con Neymar qui per un pelo non riesco a trovare la rete ma lui sul rinvio sbaglia tutto palla per Ronaldo che insomma mette dentro la rete del 3-2 5-2 totale facile facile c'è spazio ovviamente poi anche per per un allegro kickoff se ricordo bene perché questa partita finirà 3-3 se non sbaglio è questo è questo turno lo passiamo 5-3 totale vediamo se ricordo bene si bridge ancora una volta con mendica rimane immobile aereo la dice la palla la lì e passa in porta andiamo avanti all'ottavo turno di loser bracket dove ci attende una partita ragazzi folle folle contro Levi giocatore professionista dell'inter un olandese veramente molto 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 forte primo match che mi sono portato a casa per 2-0 ricomincio il ritorno anche sullo stessa falsariga con Ronaldo doppio passo incredibile mi porto la palla sul destro e incrocio per la rete che vale l'1-0 e il 3-0 totale raga qua preparate le bombole d'ossigeno perché questa partita è per cuori forti bellissima la giocata tra Renato e Ronaldo per il piattone a giro di Cristiano che trova la rete del 4-0 totale qui non si sa com'è passato bene non ha avuto coraggio a affondare il contrasto e quindi ritorna in partita con la rete del 2-1 e del 4-1 totale dal 55esimo in poi succede il disagio perché lui attiva il pressing sapete bene che a livello competitivo soprattutto il pressing fatto bene causa panici vari e qui trova la rete del 2-2 quindi si rifà sotto a 2 gol dal pari arriviamo al 67esimo con Ronaldo ottimo il tacco buono l'1-2 non ho il coraggio ancora una volta di affondare il contrasto per evitare il rigore meno 1 per il nostro buon per il nostro buon Levi 80esimo ennesima palla recuperata grazie al pressing dopo che vi giuro nella prima partita non aveva fatto un tiro palla per Ronaldo qui magari sbaglio io a switchare avrei dovuto coprire il passaggio su un bappé che avevo capito e prendo la rete del 4-2 dopo essere stato sopra di 4 gol invece andiamo sul pari ma poi arriva ragazzi 117esimo Patrizio Viera si inventa un filtrante epico per Ronaldo ancora una volta fedezza tiro a giro sul palo lungo e ci portiamo la partita a casa quindi procediamo al dei due dei due dove ci aspetta Niklas Strasek ragazzi penso che chi pastica un po' competitivo lo conosce uno dei top player al mondo da anni al momento terzo nella classifica europea ma io ero veramente veramente confident convinto di poter giocarmela anche contro di lui vediamo infatti che nel primo game fino al 42esimo non ci sono emozioni qui con la mia solita pazienza sfrutto i centrocampisti palla per Mbappé viera Ronaldo palla allargata verso Rashford ottima la finta palla a Ronaldo guardate azione scaletta perfetta mi porta a spasso il suo walker crocchetta tiro rete 1 a 0 quindi ci portiamo in vantaggio e qua diciamo che in base anche a come avevo difeso mi sentivo veramente veramente bene porca miseria sto giocando e lo sto mettendo sotto quindi continuiamo così 55esimo gli apro benissimo la squadra filtrantone verso Mbappé guardate che gli combino swoosh stuk 2 a 0 quindi ball roll più scoop turn altra cosa che vi ho insegnato tutorial con i 5 skill manda al vuoto gli avversari dal sessantesimo parte il suo comeback perché qui non sono riuscito a intercettare in tempo con Varane quindi lui va di 2 a 1 ancora una volta con Walker non temporeggio bene e va di 2 a 2 palla dentro poi ancora verso Mbappé lui qui fa la finta di tiro annullata che dovrebbe essere patchata che mi manda a vuoto Varane e che mi fa l'intervento in automatico da solo quindi riesce a trovare la rete del 3 a 2 che ci stava gol che non dovevo prendere invece questo qui all'ottantottesimo con Viera che non mette il piede non si sa per quale motivo e il primo match termina 4 a 2 quindi dopo essere stato sopra 2 a 0 non si è capito più cosa è successo e andiamo sotto di 2 parte il secondo game grandissimo gol qui con Mbappé quindi mi rifaccio sotto vado meno 1 e insomma avevo cominciato di nuovo a macinare il gioco qui con Renato perdo questa palla un po' ambigua onestamente con Varane sbaglio e azzardo l'uscita lui si lancia in campo aperto con Mbappé faccio uscire benissimo Areola che mi falcia Varane l'avevo chiuso l'avevo chiuso invece niente purtroppo Areola mi alza il mio giocatore insomma ci prendo gol quindi torno sotto di 2 lui qua fa una grandissima giocata non so come ha fatto a girarsi così ragazzi ancora me lo sto chiedendo Areola si butta giù in anticipo e prendo la rete del 2 a 1 quindi 6 a 3 totale al momento continuo comunque a giocarmela perché non si può mai sapere su Fiva anche se insomma mancava davvero poco qui con Ronaldo filtrantone verso Viera che bullizza Gullit incrocia e trova anche la rete del del 6 a 4 e la partita termina effettivamente così questi erano invece i due gol che avevo siglato contro il buon Levi nel match di andata vedete qui con Rashford palla a incrociare per la rete del vantaggio insomma belle qualifiche devo dire la verità sono uscito contro due avversari di assoluto livello credo di aver giocato davvero davvero bene molto soddisfatto molto soddisfatto devo dire c'è sempre spazio per migliorare però insomma da questi piccoli errori fatti soprattutto in fase di gestione delle partite visto che alcune mi sono stavo per suicidare devo imparare per migliorare quindi ragazzoni miei per questo video è tutto vi ricordo di lasciare un like e un commento iscrivetevi al canale perché stiamo volando e mi fa piacere per tutte le live giornaliere trovate le info in descrizione e a me non resta altro che salutarvi ragazzoni un salutone ciao ciao